buongiorno a tutti come preannunciato nella parte privata questo è il momento nel quale noi ci dedichiamo alla risoluzione della traccia che è stata assegnata durante la lezione del corso di magistratura oggi come sapete la lezione era una lezione di diritto civile e la traccia era una traccia piuttosto complessa anzi chiedo alla regia di pubblicarla ovviamente su entrambi i gruppi perché la traccia chiedeva di permettere dei cenni sui negozi gratuiti e già la nozione di negozio gratuito è una nazione complessa dopodiché chiedeva al candidato di soffermarsi sulla esperibilità delle azioni di riduzione e di restituzione in caso di donazione indiretta quindi erano molti i passaggi e i scaglioni che dovevano essere seguiti in tale ipotesi mi confermate che si sente che l'audio è qualitativo ok allora facciamo girare un po' la diretta in che senso nel senso che il candidato doveva sicuramente partire dalla nozione di negozio gratuito e quindi spiegare che cos'è un negozio gratuito poi la traccia vi chiedeva di soffermarvi sull'esperibilità di alcune azioni in tema di donazione indiretta che significa che voi dovevate trovare un modo per entrare dai negozi gratuiti alle donazioni perché non è che potevate staccare il vostro compito e dividerlo in tre parti si parla di negozi gratuiti si entra attenti non nella donazione indiretta già ma si entra nel mondo delle donazioni si spiega che cos'è una donazione indiretta e si dice che uno dei banchi di prova della differenza tra donazione diretta e donazione indiretta è proprio l'applicabilità anche a quest'ultima ipotesi di donazione delle azioni di riduzione e di restituzione e di restituzione si spiegano cosa sono le azioni di riduzione e di restituzione e poi si risolve la problematica avete capito i passaggi che andavano fatto in compito molto difficile si partiva dal negozio gratuito dopo di che ci si soffermava e chiedo scusa dopo di che dal negozio gratuito si passava alle donazioni dalle donazioni normali dirette si passava alle donazioni indirette e poi si diceva che il banco di prova della differenza dalle donazioni dirette e indirette erano proprio azioni come l'azione di riduzione e l'azione di restituzione si spiegava cos'erano le azioni di cosa sono le azioni di riduzione e di restituzione dopo di che si concludeva con la cassazione che ha risolto il problema almeno in teoria quindi nella prima parte dell'elaborato bisognava spiegare che cos'è un negozio gratuito e al corso abbiamo credo chiarito veramente in lungo e in largo che il negozio gratuito è quel negozio nel quale a fronte di sacrifici giuridici di un soggetto un'altra parte consegue solo vantaggi giuridici quindi sono contratti nelle quali non vale la relazione di corrispettività che normalmente esiste tra le parti di un contratto il famoso dot des di sapore mercantilistico sono invece contratti in cui a fronte del sacrificio giuridico totale di un soggetto abbiamo un vantaggio giuridico totale per un altro soggetto ovviamente qui bisognava trovare un modo per ricollegare questa discussione con la donazione ed era devo dire presto fatto perché a questo punto si doveva chiarire che benché spesso negozio gratuito e donazione vengano utilizzati come sinonimi in realtà la donazione è solo una ipotesi di negozio gratuito forse la più pura, la più genuina perché in quel caso veramente il donante non riceve nulla in cambio della donazione mentre molte altre ipotesi che abbiamo visto durante il corso penso per esempio al prestito che è un soggetto a titolo gratuito che è un soggetto che fa a una società di cui è socio penso al contratto di sponsorizzazione eccetera il contratto di donazione è l'unico veramente disinteressato da questo punto di vista ovviamente a questo punto nel compito dovevate spiegare che cos'è una donazione in parole povere, chiare e sintetiche e dovevate trovare un modo per ricollegarvi alle donazioni indirette qual era questo modo ovviamente nel descrivere le donazioni dirette dovevate dare atto dell'obbligo formale che le caratterizza e cioè del fatto che salvo che le stesse non siano di bene e di modico valore bene mobile e di modico valore le donazioni devono sempre avvenire mediante la forma dell'atto pubblico alla presenza di due testimoni avreste però dovuto dire che il codice in qualche ipotesi deroga alla regola appena enunziata che l'ipotesi delle donazioni indirette quando atti di donazione per somme non di modico valore o avente l'oggetto bene non di modico valore vengono eseguiti anzi vengono eseguite mediante l'utilizzo di altri atti tipici del nostro ordinamento buongiorno Cristina che facciamo girare un po' la diretta di apriaggiusi atti tipici del nostro ordinamento che però non richiedono la forma dell'atto pubblico e allora pensiamo al corso non abbiamo parlato in lungo e largo alla remissione di un debito un debito può essere rimosso senza particolari formalità pensate all'adempimento del debito di un terzo all'adempimento di un terzo del proprio debito eccetera e allora capivate come le donazioni indirette cosa sono? sono delle donazioni vere e proprie non manuali che vengono eseguite utilizzando atti giuridici diversi tipici che non richiedono forme particolari una volta chiarito che questi tipi di donazioni sono valide avresti dovuto dire che il vero banco di prova della differenza tra vede queste frasi servono per passare da una parte all'altra del tema vero banco di prova della differenza tra donazioni dirette e donazioni indirette vero banco di prova è dato da l'esperibilità anche nella seconda ipotesi delle azioni di riduzione e di restituzione perché? perché vedete l'azione di riduzione a questo punto chiaramente avreste dovuto spiegare cos'è l'azione di riduzione e cos'è l'azione di restituzione quindi avreste dovuto chiarire non abbiamo già viste parlando in realtà di diritto successorio che l'azione di riduzione è quell'azione che può essere sperita dal legittimario che abbia subito che abbia subito una lessione della propria quota di eredità legittima che la legge gli risolvi riserva in virtù proprio appunto del suo ruolo del suo rapporto familiare con il decuius avreste ovviamente dovuto chiarire che l'azione di riduzione è possibile sia in presenza di una successione abbintestato quindi di una successione testamentaria che è in presenza di una successione legittima perché? perché nell'ipotesi di una successione testamentaria la quota di riserva si calcola dalla riunione del donatum e del relictum quindi non solo di quanto è stato lasciato in vita con testamento ma anche di quanto era prima nel patrimonio del decuius e di quanto questo è donato in vita nel caso di donazione in assenza di testamento la quota ereditaria deve essere comunque reintegrata guardando alle donazioni compiute in vita l'azione di restituzione che è un'azione collegata all'azione di riduzione è quell'azione che permette al erede legittimario una volta che ha ottenuto la riduzione delle disposizioni testamentarie o delle donazioni legittime di ottenerne la restituzione e quindi se si tratta di beni effettivamente restituibili come dei beni immobili come delle quote societarie come dei gioielli come dei preziosi chi agisce può chiederne ovviamente la restituzione in natura previo esperimento dell'azione di riduzione ora vedete la questione che ha interessato recentemente la giurisprudenza era quella sull'applicabilità dell'articolo 463 anche alle ipotesi di donazione indiretta che dice il 563? cioè se i donatari contro cui è stata pronunziata azione di riduzione hanno alienato a terzi gli immobili donati e non sono trascorsi vent'anni dalla trascrizione della donazione il legittimario può chiedere ai successivi acquirenti la restituzione degli immobili cioè la norma dettata in origine in tema di donazioni dirette che cosa prevede? prevede che se io ho ricevuto un bene in donazione e poi ho preso questo bene e l'ho venduto ad un altro soggetto quando poi si aprirà l'eredità del donante e un altro soggetto verrà a ridurre la mia donazione perché dirà che quella donazione ha ridotto la sua quota di legittima l'erede legittimario che ha agito in riduzione potrà chiedere la restituzione del bene immobile anche a colui che ha acquistato il bene dal donatario chiaro? quindi il donatario ha ricevuto un bene immobile in donazione l'ha preso e l'ha venduto a un terzo muore il donante e allora il legittimario che si rende conto che quella donazione ha leso la sua quota di eredità legittima aggredisce quella donazione dice io devo avere questo immobile aspetto a me va bene aggredisce la donazione ma a chi fa a chi chiede la restituzione del bene immobile al donatario non ce l'ha più al terzo agisce contro il terzo e può ottenere la restituzione di bene immobile ed è per questo che tendenzialmente nessuno acquista i beni che provengono da donazione non per cattiveria nessuno acquista i beni che provengono da donazione perché sa che potrà sempre verificarsi al momento della morte del donante una qualche problematica di questo tipo ora la questione problematica era ma questa ipotesi del 563 si applica anche alle ipotesi di donazione indiretta o no? per esempio avevo donato a un mio figlio non un immobile ma 300.000 euro perché lui comprasse l'immobile gli dono i soldi lui compra l'immobile una volta comprato dopo un po' prende e lo rivende in questo caso l'altro figlio che agisce in riduzione e quindi riduce la donazione di 300.000 euro che poi ha portato all'acquisto dell'immobile può chiedere la restituzione dell'immobile al terzo o no? capite la differenza? in un caso la donazione ha riguardato proprio il bene di cui tu vai a chiedere la restituzione nell'altro caso ha riguardato i soldi che sono serviti all'acquisto del bene ora vedete Cassazione 4523 del 2022 aveva affrontato il problema e aveva ritenuto applicabile l'istituto del 563 alla donazione indiretta passano appena pochi mesi la Cassazione torna a pronunciarsi sul punto e lo fa con sentenza 35461 del 2022 e sconfessa la ricostruzione della Cassazione di pochi mesi prima sostenendo che non è corretto quanto elaborato dalla Cassazione in diversa composizione pochi mesi prima ritenendo che in caso di donazione indiretta il soggetto può esperire azioni di riduzione sul bene ma la sua forma di tutela sarà una forma di tutela solo economica finanziaria cioè avrai solo un diritto di credito e allora di quanto è stata la lezione che subito 40.000 euro devono tornarti 40.000 euro ma non puoi andarti a prendere il bene immobile cioè detta in modo un po' più elegante buonasera Federica hai tutela obbligatoria sì ma non hai tutela reale con questo io ho concluso adesso ovviamente spazio per le domande sia in classe che da casa quindi spazio per le domande prego Claudia un piacere domanda di Corinna il motivo la razio che si scelta dietro questa sentenza l'idea è che se la donazione è diretta è allora giusto attribuirti tutela reale perché tu effettivamente il danno che ti è derivato deriva proprio dalla donazione di quel bene se invece la donazione è indiretta e quindi parliamo di denaro e allora è giusto in questo caso che la tutela sia una tutela solo di tipo obbligatoria sia un diritto di credito e nient'altro non domande? 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 aspettiamo ancora un minutino per le domande nel frattempo vi ricordo che alle 15 tra poco più di un'ora non è 10 minuti siamo in diretta saremo in diretta con la risoluzione delle tracce per l'esame di avvocato ancora un minuto vediamo se ci sono altre domande allora non vedo domande quindi ci salutiamo e ci vediamo alle 3 in diretta arrivederci ciao